Musica No MV non sta per Malavi Salutando il buon Nu Salve a tutti cari miei E ben ritrovati qui in una nuova puntata con Ti tiro la staccata L'ultra quarantenne ormai con 127 vittorie alle spalle Che non può fondare comunque sia un team Perché nonostante abbia vinto 11 titoli mondiali Non ha la possibilità di creare un team per poca fama 200.000 fama richiesta Noi ne abbiamo soltanto 89.000 circa Uff Non vedo l'ora davvero ragazzi di intraprendere questa esperienza con MV Augusta Soprattutto in un campionato Dove ci regaleranno E ci sicuramente divertiremo un mondo Sempre con la difficoltà estrema 120% Tutto il resto più o meno proporzionato al campionato che andremo a fare Non vedo l'ora ragazzi Quindi mi raccomando Magari se riusciamo ad avere un bel video con più di 1000 mi piace Farebbe veramente un sacco un sacco un sacco piacere Tra l'altro oggi arriva Sky Sky a casa mia non è una dv questo Ma intendo proprio arriva Sky TG a casa nostra Mia e dei miei colleghi di lavoro E anche dove andremo poi dove lavoriamo in training facility Mi ne ho già parlato Comunque io lavoro per Ferrari Quindi Sky TG nei prossimi giorni farà anche un servizio E quindi sono piuttosto in ansia Anche perché dovrò parlare davanti alle telecamere Io davanti alle telecamere non so parlare No ma forse ce la posso fare Forse ce la posso fare Bando alle ciance ragazzi Avanziamo fino alla Direi proprio fino al prossimo evento Soprattutto ragazzi Ho deciso di fare per quest'anno Il campionato intero Senza considerare la variante Chiaramente del covid Che ha fatto comunque scivolare alcune piste Ha fatto togliere completamente alcune piste Dunque ho deciso di fare il campionato Quello che sarebbe dovuto essere reale Insomma quelle cose là La Moto2 non ha il TCS Quindi bisogna stare decisamente tanto attenti Quando si affrontano delle sessioni del genere Adesso per esempio partiamo dalla FP2 Andremo anche in FP3 E poi qualifica Prima volta per me con le Moto2 Eccetto qualche esperienza online Dunque so che è molto difficile Perché con questo joystick Bisognerà calibrare questo tastino Il tasto RT o R2 Del controller della Playstation E bisognerà dosarlo bene Perché altrimenti Finisci per Prati Con Icehide spaventosi Prima uscita ragazzi Questa è un'altra con gomma dura La traiettoria è per via di un test di sviluppo No cos'è successo? No No Ma problemi tecnici Problemi molto tecnici L'importante è non cadere Ma capire i limiti Ad esempio ho capito che il posteriore Il pleno posteriore non dovrò mai utilizzarlo E che al secondo giro le gomme dure sono già Cos'è che ho detto scusate? Ora uso i rewind perché i rewind si usano in prova Ma perché? Perché non sto zitto? 2-0-0-1 8 decimi da Fabio Digià Che ha fermato con Ducati Per l'anno prossimo Direi che sono abbastanza felice Vediamo se riusciamo ad accedere A un buon posizionamento Diciamo in classifica Vediamo per la qualifica Lanciamoci per questa qualifica Vediamo un po' che tempo riusciamo a fare ragazzi Dai puliti 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 e concentrate Grazie Via, Renas, via Uscito nel box, dai Uh, cambio di direzione qui In mezzo alla traiettoria proprio, completamente pazzesco In lotta, in lotta con Renas Vabbè T3, rovinato per tutta sua Un giro che era fantastico Poteva essere un 59 Nooo, no, ho perso il controllo Non ho più il posteriore Non ho più il posteriore Peccato Oddio, ma è un bel giro però È un cazzarola di buon giro Nonostante tutto Io godo Ma adesso io un po' Ti posso anche Oh, come mai va così largo? Ah, ah, ah Sbagliato Sbagliato Due decimi per colpa di Renas Due decimi per colpa di Renas Ragazzi, ce l'ho lasciato lì Due decimi Incredibile Due decimi anche nel tuo settore Potevo forse fare la pony 58.8 Potevamo forse fare 58.8 Ma Renas ci ha distrutto completamente E quindi Termina così con un quarto posto A due decimi Ma siamo alla prima MV Augusta Con Bob Benz Scusate Bob Benznyder Pilota che ricordo dai tempi Della Della Moto3 O 125 all'epoca dovrebbe essere No, 125 No, mi sembra troppo Però Moto3 Senza ombra di dubbio Come anche Cameron Bobbie Comunque Joe Robbins Jake Dixon Non male Peccato ragazzi Però Io mi sento di dire Che è un'ottima prestazione Con la moto che abbiamo Che non è di certo la migliore Anzi, la peggiore E Mi sento Mi sento bene Mi sento veramente bene Peccato Perché potevamo fare Molto probabilmente La pole position Nel nostro primo appuntamento Ma la gara è un'altra roba La gara è un'altra roba Soprattutto per vedere i consumi Che saranno Fuori di testa Io ragazzi Ho appena fatto l'intervista Che vi dicevo di Sky Oh no No, mi sa che non metto le medie usate Non metto le medie nuove Ma ho paura Ho decisamente paura Ah, abbiamo dei set di gomma Nuova, dura Davanti Davanti almeno un set Meno male Perché Nelle prove libere In realtà Ce n'era soltanto una a disposizione Da quella che abbiamo utilizzato Ho molta paura in realtà Su quello che Potrete vedere Anzi Sapete che vi dico Vado con la media davanti E una dura dietro E dovrebbe essere Peggio però Ovviamente il feeling Che abbiamo con L'acceleratore Con il grilletto Ma Vediamo Vediamo Sono abbastanza curioso Ragazzi Siamo in P4 Media 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 dura Ok Perfetto Ci siamo Ok Ci siamo Paura 3 E via Beh Oddio Pensavo Una partenza Peggiore Perché Mi sono praticamente Fermato Ho fatto fatica A sentire il suono Della mia Moto Cicletta Abbiamo perso 10 posizioni Bella partenza La Vignales Che abbiamo fatto Continui incidenti Occhio qui E' la prima Che ragazzi E' sempre Molto complicata Bisogna Rimanere Rimanere Integri Intatti Mamma mia Ho aumentato Un po' Da criminale Quella Boh Ma no Ma dai P20 P20 Ma che partenza Orribile Abbiamo tanta Paura Canet Che si è Tanto Lovinato Non voglio Usare Troppo La La gomma Aspetta Che ci sia Capito Come dare Il taglio Bene Quindi abbiamo Fatto Un miracolo In Qualifica Come facciamo A essere Tranquilli E sereni In questa Posizione Con un taglio Inutile Questo Ok Il primo giro Su 5 Passa Piuttosto Indenne Almeno Per quanto riguarda Caduto O meno Abbiamo rischiato Tanto Con la KTM Sul dritto Siamo sempre Molto veloci Troppo veloci Oserei dire Ma almeno Riusciamo a recuperare Qualcosa Oddio Che spinta Potremmo dire Che è quasi Finita La pacchia Perché comunque La difficoltà Sembra Elevata Intanto Purtroppo Purtroppo Siamo Fregati Dalle tre Troie Che non Ci permettono Di Superare E guarda Che qua Con la dura Ragazzi Saremo caduti Quindi 17 Ah Mannaggia Celestino Gara Totale Sofferenza Ma almeno È pulita Serve per Esperienza Ragazzi Dobbiamo capire Quanto durano Le gomme È una pista Che le gomme Comunque Le consuma Considerate che ancora Abbiamo Il power a 3 Che non voglio utilizzare Se non Nel tv Continuo Potremmo Utilizzare Da qua Via Ci ha Più Power a 3 È subito Spettacoloso 59 5 Eh Sono dei bei tempi 2 004 Ah Non riusciamo a tenere Prendere la posizione Qui È lotta Per un punticino Ragazzi Praticamente Siamo È lotta Per un punticino Misero Però mi farebbe Tanto morale Sono veloci Mannaggia Più o meno Io sono con i miei tempi Poi nessuno cade Quindi Li ha O quantomeno Si è aggiustata Da questo punto di vista A parte all'inizio Ho visto qualche caduta Mi sembrava una o due cadute Oh Siamo buttati Un po' troppo Allegri Allegro chirurgo Vi tiro la staccata L'allegro staccatore Dai Lo lasciamo a tenere dietro Uff Importante Importante Questo per il morale Ragazzi Eh Importante Una risalita Lo sto Assolutamente Utilizzando La ruota Posteriore Stiamo lavorando Benissimo Sono due avvertimenti Così stupidi Da non sembrare veri Ho toccato La linea bianca Se vado oltre La Sono bello che è caduto Il giro è molto buono Il giro è molto buono Perché siamo riusciti A recuperare Anche sul quattordicesimo Fernandez Riuscire a passarlo Prima o poi Oh Ed è 1.59.8 A tredecimi Dal miglior Dal migliore prestazione Largo In curva 1 Basta Basta Fernandez Basta Ok Short shift Con la moto 2 Oddio Ho bisogno Ho bisogno Ho bisogno Ho bisogno Tenuta Non è per niente facile Ragazzi Quando non hai Il traction control Fare la curva In prima marcia Hai una paura Fare Side Sparentoso Comunque un giro in linea Con quelli passati Stratter larghissimo Ok Guardi si chiama la caduta Mamma mia Non so perché ha fatto così Così cattiva Proprio la moto Ok Dove andare sempre Di short shift Per chi non sapesse Cos'è lo short shift Vorrebbe dire Eccolo Non far questo Ecco in poche parole No Errorazzo Questo Errorazzo Cos'è successo Non l'ho visto Stavo guardando Più che altro Stavo pensando Addietro Che potrebbero Recuperarmi Bene così P13 Spero che non ci siano Fatti male Abbiamo perso Un secondo di passo Ed è un secondo Che potrà permettere Di stare In lotta Con quelli davanti Ultimo giro Partenza P4 P13 Qua adesso In questo momento Sicuramente Non quello Che vi aspettavate Ma ci troviamo Addirittura In P20 Destinati a A crollare A essere crucifissi Per la prestazione Ridicola Che stava prendo Di tiro Ma è solo La prima gara D'adattamento Ci sono Tanti 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 Risvolti Positivi La beta Di Formula 2021 Com'è possibile Che siano qua Incidente Dietro Abbiamo perso Abbiamo perso Un po' di gomma Ogura qui Lo sa Sofferenza Agonia Ma Ogura Deve star dietro Ogura Non mi interessa Stiamo vicini Vicini Ragazzi Sul rettellino Ce lo mangiamo Troppo buoni Ragazzi Con La gomma posteriore Ed è però Dura Uccidente Purtroppo Sempre dietro Mi sa Ci sono Ci sono Andate La pastagione L'ultimo Giro Uscito Forte È lontano Gura Ma secondo me Raggiungibile Sì P13 P13 All'arrivo Gara Tosta Gara Tosta 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 Dovevamo stare Continuamente Sul 59 Sì Sul 59 Per Stare Quanto meno Col passo Dei primi Di Lorenzo Baldassari E tutto Sia secondi Ci siamo presi Quindi più di un secondo A giro Con una prima parte Di gara Veramente Orribile La partenza Però Troppo qui Non mi fa vedere La partenza Comunque Mi sa che è un bug Perché Una volta Mi facciamo a vedere O forse Questi sono le lights Non lo so Non so Però Eravamo ventesimi Dopo il primo giro Abbiamo rimontato Fino al Tredicesimo posto Dobbiamo Raggiungere Secondo me Il Tredicesimo posto Nonostante La caduta Di Schrotter E Ora non ricordo Nemmeno più Fu forse Fernandez Bloccato Dalla Schrotter Stessa Quindi È stata una bella gara Piena di lati Positivi Risvolti Positivi Sicuramente È importante Questo risultato Per farci capire Che Non possiamo più Darci la pazza gioia E possiamo sviluppare La moto Nel corso Nel corso della stagione Aspetterei Ancora 2-3 Gran Premi Perché dobbiamo Vedere se piove Come sarà la situazione Con la pioggia Se andremo forte O meno O se cadremo Molto di più Voglio vedere altre piste La prossima sarà Se non vado errato Argentina Si dovrebbe essere Argentina Come da campionato Normale Diciamo Qua bella la botta La caranata Che ho dato A Fernandez E bel Gran Premio Mi sono super divertito È stato molto corretto Io ragazzi Con queste immagini Vi do appuntamento Alle prossime Le prossime gare Con Ti tiro la staccata E chiaramente Anche con altri video Sul canale Con il rec E tante altre cose Ciao ciao